A seguito della riunione dell'unità di crisi convocata dal direttore generale dell'Asley Teramo Maurizio Iggiosia, sono state decise nuove misure per contrastare l'aumento dei contagi. Come prima cosa è stato disposto il divieto di ingresso negli ospedali per i visitatori in modo da eliminare possibili fonti di diffusione del virus. Per lo stesso motivo sono state istituite limitazioni anche per l'accesso degli accompagnatori. Potranno entrare solo coloro che accompagnano minori o invalidi. Dobbiamo correre i ripari perché l'espansione del virus è oramai dilagante. Dobbiamo cercare di salvaguardare i malati e soprattutto anche i nostri operatori perché tanti operatori stanno diventando positivi. Qui una raccomandazione doverosa. Abbiamo posto anche la regione oramai tramite l'agenzia sanitaria regionale. Ha stabilito che ogni sette giorni i sanitari devono fare i tamponi e quindi è un termine d'obbligo che tutti debbono rispettare all'interno degli ospedali sanitari. La Asle, oltre alle misure già adottate, ha deciso di aprire un altro centro vaccinale attivo solo al mattino dalle 9 alle 13 nell'aula convegni del secondo lotto del Mazzini con 300 slot al giorno. In definitiva a Teramo si potrà arrivare a inoculare giornalmente 1900 dosi, 300 al Mazzini con prenotazione, 1300 al Parco della Scienza con prenotazione e altre 300 senza prenotazione. Sì, siamo mettendo in atto tutta una serie di attività, di azioni per evitare assemblamenti, accalcamenti. Se tutti si prenotassero per fare il vaccino si eviterebbero quelle quote che abbiamo visto nei giorni scorsi. È ovvio che prima c'era prudenza al vaccinarsi, la paura, però nel momento in cui ci troviamo in queste condizioni tutti si vogliono vaccinare. Certo, è ovvio, ci sono dei problemi, però con un po' di buon zesso si risolvono tutti. Ieri di fatto siamo stati lì, visto quali erano le problematiche. Adesso, già ieri pomeriggio la situazione era più fluida, nel senso che noi consentiamo prima di tutti i prenotati, dopodiché faremo anche i non prenotati perché la Circolare Figlioni vuole anche questo, che chiunque anche senza prenotazione può fare il vaccino, però ne facciamo un X e dopodiché metteremo del personale a disposizione per fare la prenotazione, perché con la prenotazione ci sono i posti disponibili e si riesce a programmare meglio la fase vaccinale.